Hello bad guys, come vi avevo accennato dai post su youtube e come potete anche intuire dal titolo del video ho deciso di organizzare il mio primo torneo Edison del canale quindi qualora tu fossi interessato a partecipare ti consiglio vivamente di guardare il video dall'inizio alla fine in vista delle importanti informazioni che dirò in merito carico quindi questo video in maniera del tutto eccezionale quale miglior modo di comunicarvi le informazioni dell'evento oltre che dai post sui miei social tramite un video in cui vado a spiegare maggiori informazioni in merito al torneo in questione prima di continuare se sei interessato a contenuti retroformat come Edison per l'appunto ma anche Tenguplant, Goat e o unboxing di prodotti vintage di Yu-Gi-Oh iscriviti al canale costa poco del tuo tempo e gratis ma supporterai significamente il mio canale e il mio lavoro parlando ora del torneo questo si svolgerà su Dwelling Book il 24 giugno dalle ore 15 ho scelto questo orario così potrete pranzare tranquillamente a maggior ragione se magari vivete con i vostri genitori che non vi fanno alzare da tavola per un gioco e fidatevi so che vuol dire quindi detto questo parliamo del metodo di svolgimento del torneo il torneo non sarà ad eliminazione diretta ma applicherò il classico sistema appunto utilizzato anche ai local prevederà 5 turni la cui durata massima è di 45 minuti ogni partita sarà 2 out 3 quindi dovrete ottenere almeno 2 vittorie per vincere appunto il duello e il turno e alla fine dei turni calcolerò la top 4 che sarà invece ad eliminazione diretta e udite udite se saremo abbastanza metterò un piccolo premio in palio per ringraziarvi appunto della partecipazione a questo torneo problemi che potrebbero sorgere essendo un evento online non me ne vogliate ma devo essere un minimo rigido sulle tempistiche quindi se l'avversario non dovesse presentarsi ma soprattutto non dovesse comunicarvi in alcuna maniera la sua presenza entro 15 minuti dall'inizio di ogni turno calcolerò la cosa come sconfitta quindi come game loss per l'assente ovviamente se doveste avere problemi in ritardo di andare al bagno questo genere di cose non vi preoccupate voglio essere un minimo flessibile almeno su questo potete tranquillamente concordarvi con l'avversario per giocare però entro i primi 30 minuti dei 45 minuti del turno ovviamente comunicate la cosa direttamente a me o anche un moderatore su discord o su uno dei miei social per partecipare se non l'hai già fatto iscriviti al mio canale youtube lascia un mi piace e un commento con scritto partecipa al torneo e se ti va condividi con i tuoi amici questo video per farli anche magari partecipare di conseguenza potrebbe essere meglio sia per me che per voi appunto con il premio in questione se raggiungiamo un certo numero fatto ciò unisciti al mio server discord che troverai qui sotto in descrizione fra i link utili caso che non abbiate discord scaricatelo tranquillamente totalmente gratuito estremamente facile da usare ed intuitivo di conseguenza detto questo scrivi il tuo nickname di dwelling book e manda la lista del tuo deck esclusivamente a me in privato quindi a 96 star rastregoli su discord dato che anche i moderatori molto probabilmente vorranno partecipare al torneo e non sarebbe molto bello che vedano le liste degli altri per quanto scontato tendo a dirlo per sicurezza non potrete cambiare mazzo e le carte al suo interno durante lo svolgimento del torneo infine come ultimo punto ma non meno importante seguimi su instagram e facebook non è propriamente obbligatorio ma ti consiglierei vivamente di farlo per due semplici motivi da una parte è vero che sopporterai il mio lavoro ma dall'altra parte posso comunicarvi repentinamente magari informazioni in merito al torneo di un certo spessore come alcuni problemi i turni insomma ogni genere di informazione che può essere utile appunto al svolgimento del torneo vuoi partecipare ma non sai cos'è il formato edison? controlla tranquillamente la mia guida qui sotto in descrizione vado a spiegarti appunto come giocare edison quali sono le carte insomma tutte le informazioni che devi conoscere in merito al formato altro punto ma non meno importante rispetto agli altri in caso di comportamenti tossici mi raccomando segnalate la cosa senza problemi direttamente a me e o anche ai moderatori del server che provvederanno in caso ad informarmi in base all'accaduto provvederò personalmente ad intervenire nella maniera che repoterò più opportuno per l'appunto il mio obiettivo come canale è quello di avere una community tranquilla che non sia per l'appunto tossica dove ognuno possa esprimere i propri pareri nel rispetto dell'altro e degli altri io vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto e ringrazio ancora di più chi vorrà partecipare al torneo spero che saremo numerosi mi faccio questo augurio ovviamente non sentitevi obbligati di giocare deve essere una cosa tranquilla molto for fun e l'obiettivo per l'appunto è divertirsi io come avrete potuto intuire non parteciperò al torneo dato che dovrò gestire i turni le liste e quant'altro cercherò anche di vedere alcuni duelli e spero in futuro di poter diciamo realizzare questo tipo di eventi del canale anche dal vivo perché obiettivamente almeno secondo me giocare dal vivo è più divertente quindi di tutto questo grazie ancora e arrivederci al prossimo video see you next time